Buongiorno, siamo ad Assolombarda, oggi Impresa TV inizia a coprire gli eventi di Assolombarda e parliamo appunto con il dottor Antonio Colombo che è il direttore generale di Assolombarda. Le chiedo dottore, intanto buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Le chiedo intanto che cosa pensa che stia facendo Assolombarda per rappresentare gli interessi economici del nostro territorio in questo momento? Beh, i fronti sono i più disparati, da quello legato alla congiuntura particolarmente sfavorevole e quindi alla rappresentanza dei problemi che l'industria lombarda e milanese sta soffrendo fino a continuare a rappresentare quelle che sono le esigenze di un territorio che spaziano ovviamente dal tema delle infrastrutture e arrivano fino alla valorizzazione delle potenzialità legate ad esempio anche ad Expo. Diciamo che siamo impegnati veramente a 360 gradi sia sul contingente e sia invece sulle valutazioni di carattere strategico perché il contesto sia favorevole allo sviluppo economico dell'impresa. Assolombarda in questo periodo ha difeso l'Inate, Malpensa, ha difeso comunque lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti della regione e di tutto il nord Italia. Cosa possiamo osservare rispetto a tale questione? Tutti sanno che una delle condizioni che ha consentito il grande sviluppo di questo territorio è stata la sua posizione centrale rispetto all'Italia e all'Europa ma è stata anche la dotazione infrastrutturale. Oggi la Lombardia e Milano soffre tremendamente una carenza infrastrutturale. Sembrerà incredibile dirlo ma oggi Milano e la Lombardia si pongono a livello veramente basso sia a livello nazionale che a livello europeo. Le infrastrutture sono una condizione non solo per lo sviluppo di questo territorio ma per il mantenimento della qualità della vita dei suoi cittadini. Per questo motivo riteniamo che a partire dalla viabilità per arrivare al trasporto su ferro ma senza dimenticare la grande importanza del trasporto aereo e dei collegamenti internazionali ed intercontinentali. Ci siamo riempiti la bocca col termine globalizzazione. Oggi Milano rischia di non essere più collegata col mondo e questo credo debba preoccupare tutti quanti non solo e non tanto per le difficoltà che potremmo avere noi cittadini di Milano e della Lombardia a viaggiare ma quanto perché per tutti i cittadini del mondo, dell'Asia, dell'Africa, dell'America sarà difficile raggiungere Milano e quindi valorizzare le sue potenzialità, le sue infrastrutture di servizio ad esempio la grande fiera di Milano che ricordo è una delle più importanti fiere del mondo e rischiamo di non averla collegata col mondo. Queste osservazioni del dottor Colombo ci fanno poi pensare al fatto che le previsioni di tutti gli osservatori concordano sul fatto che questo 2009 sarà caratterizzato da un andamento dell'economia di tipo recessivo. Secondo lei quali sono le priorità dell'agenda economica dei prossimi mesi? Certamente l'assistere le imprese sotto il profilo del credito in questo momento. Io credo che le nostre imprese abbiano compiuto un grande sforzo nella riorganizzazione negli anni scorsi e ne ha una dimostrazione il fatto che il nostro paese, la nostra industria manifatturiera nel 2008 anno in cui il petrolio ha raggiunto le sue massime quotazioni storiche anno in cui il cambio col dollaro è stato il più sfavorevole le nostre esportazioni hanno tenuto, le nostre imprese hanno dimostrato di saper competere a livello globale. In questa fase è necessario aiutarle perché possano mantenere la loro competitività senza essere abbandonate sotto il profilo del patrimonio e del credito che in questo momento risulta essere particolarmente difficoltoso per le piccole e piccolissime imprese e questo credo sia un tema davvero prioritario.